bene, a questo punto la parte difficile è stata fatta abbiamo fatto lo script abbiamo fatto due script, uno che ruota e uno che muove e sono script di una riga, vedete che la riga più importante è questa nel caso dello script che ruota e poi abbiamo fatto lo script che muove, che sono una riga e mezza perché c'è un if, cioè se abbiamo premuto il tasto e poi abbiamo semplicemente, per chi lo vede la prima volta può essere complicato ma abbiamo una trasformazione della posizione in funzione della direzione in cui si guarda con Google Android ora andiamo a fare quello che abbiamo visto nelle settimane scorse che è un pochino più complicato che è quello di andare a fare file, build, settings e qui dobbiamo convertirlo in un progetto Android quindi facciamo una switch platform quindi abbiamo la compilazione di tutti gli script che abbiamo già visto nelle settimane precedenti quindi questo è una ripetizione, un ripasso e quindi voi più volte lo farete queste cose più vi le ricorderete io tante volte poi, soprattutto le prime volte mi dimenticavo di fare alcune operazioni tra l'altro sono un po' noiosi perché soprattutto all'inizio del progetto vi obbligano ad aspettare che lui si faccia tutti i suoi comodini comunque l'ha fatto e poi vi ricordate che andiamo sul player settings i player settings lo si clicca da qua oppure come ho fatto io io semplicemente l'ho riportato qui nel project settings semplicemente muovendolo qui c'è tra l'altro una cosa che poi eventualmente correggeremo forse le settimane prossime che l'ombra non è tra le migliori ma c'è un modo per correggerla allora andiamo qui nel player e nel player dobbiamo dire che vogliamo andare su sull'opzione diciamo in realtà virtuale quindi xr settings xr settings virtual reality supported poi dobbiamo dire che cosa vogliamo supportare quindi vogliamo supportare il cardboard quindi fa una piccola compilazione lui ci dice che bisogna andare su other settings adesso qui lo vedete in piccoletto ma qui c'è scritto xp può essere supportato soltanto se non c'è vulcan quindi dobbiamo andare in other settings e qui in other settings dobbiamo ricordarci di cliccare su vulcan cancelliamolo e poi in realtà ci sono un paio di altre cosucce che bisognerebbe modificare cioè minimum happy level dobbiamo metterci un po' più alto quindi sono le varie versioni io direi di partire dalla 6 diciamo che con la versione base che questa non funziona quindi mi sembra che il minimo sia la 19 ma noi accettiamo la 5 questa e poi qui in teoria dovreste mettere il nome del vostro progetto perché è così che vi dite riconosciute quindi qui mettiamo com anzi facciamo org salazar punto gvr unity che è il nome del progetto che stiamo facendo versione eccetera ora se non mi ricordo male dovrebbe essere sufficiente così poi sicuramente mi starò dimenticando qualcosa a questo punto se abbiamo fatto tutto cosa facciamo? facciamo di nuovo file build and run no direi che facciamo build che è più semplice quindi build settings questo e facciamo build ci ricordiamo di metterlo in un posto opportuno quindi sotto magari gvr unity sì ma qui ci facciamo una cartella quindi nuova cartella e qui ci facciamo binaries oppure diciamo cos'è la pick up facciamo la pick up perché genera una pick up quindi la pick up la mettiamo qua dentro e qui dentro ci mettiamo il nome della pick up e questo nome della pick up sarà primo primo programma android o quello che volete insomma l'importante è che ve lo ritrovate primo programma android facciamo salva e quindi a questo punto parte tutto quel discorsino che abbiamo visto accadere anche su alspace vr in cui lui prende tutte tutte le texture tutte le cose che sono nel nostro progetto e fa una lunghissima operazioncina che il cui esito finale è generare un file intermedio che nel caso di alspace era lo zip che poi portavamo su su alspace e nel caso in questione nostro diventerà invece un vero e proprio apk quindi adesso credo che ci impieghi forse per farlo su android ci può impiegare un bricio di più che su alspace perché deve proprio produrre e fare fare finto di essere un device android quindi in questo momento sta facendo dietro le quinte sta facendo veramente una montagna di lavori lavori che priva fino a qualche mese fa fino alla versione 2018-19 bisognava in qualche modo fargli a mano noi separatamente scaricando l'SDK Java insomma tutte queste cose qua che invece adesso fortunatamente ci vengono nascoste però pure essendo nascoste impiegano il loro tempo e questo ce lo dobbiamo assorbire adesso ve lo vedete in tempo reale se il vostro computer è più lento magari ci impiegherà ulteriormente di più ok comunque abbiamo generato il nostro programma pk perfetto allora qui abbiamo il problema che abbiamo già incontrato l'olta scorsa io per riuscire a installare il programmino su android me lo spedisco via email in formato zip se no si potrebbe anche trasferire via USB ma questo io direi che è una delle cose più semplici salvo che adesso ho dovuto fare lo zip perché la pk non lo prendeva poi qua posso fare il download del programma e poi posso fare l'apertura e qui vedete che mi dice se è un archivio posso aprirlo e nel momento in cui lo archivio quindi lo faccio apro con questo mi fa vedere che dentro c'è il primo programma android.pk quindi nel momento in cui lo clicco dovrei poterlo estrarre quindi viene estratto e questo programmino qua a questo punto lo ok vedete che mi da questo problema che è interessante il tuo telefono non è autorizzato ad installare applicazioni sconosciute questo perché? perché è la prima volta che lo faccio quindi devo andare nelle impostazioni e poi devo dirgli consenti da questa sorgente quindi torno indietro ok a questo punto mi dice questo programma non richiede nulla di particolare faccio install viene fatta l'installazione di questo programmino che abbiamo appena fatto vedete che si è fatta non riconosce questa cosa qua e non ce l'installa bene abbiamo visto che non ce la lascia installare allora dobbiamo fare questo mestiere abbiamo play protect che ci proteggerebbe ma in questo caso noi vogliamo effettivamente installare la nostra applicazione quindi andiamo sotto play e poi sotto play andiamo a cercare play protect questo vedete che ci dice tutto a posto ma andiamo sull'ingranaggino e poi gli diciamo di disattivare il play protect a questo punto in teoria dovremmo riuscire a installare il nostro programmino quindi andiamo di nuovo nel dunque abbiamo detto che il nostro programmino si chiamava dobbiamo installarlo lo andiamo a vedere di nuovo sull'email che ci avevamo quindi andiamo sul guardate gmail perché qui è difficile farlo mentre mentre ecco abbiamo questo questo qua abbiamo di nuovo il nostro file che era la serva dell'archivio quindi rifacciamo l'estrazione sostituiamo l'abbiamo già fatto sostituiamo ok fa l'estrazione a questo punto riproviamo a installarlo ti dice di installarlo effettivamente e a questo punto se siamo fortunati dovrebbe fare l'installazione che prima ci aveva vietato ora applicazione installata l'apriamo e se l'apriamo adesso lo mettiamo in formato diciamo verticale quello che c'è vedete che abbiamo Unity e poi abbiamo il nostro cubo che ruota ora quello che è interessante è qua adesso io non l'ho messo ancora nel visore ma se fosse nel visore basta toccare lo schermo vedete che ci muoviamo ecco ci stiamo muovendo giriamo voltiamo a sinistra e poi clicchiamo il visore e questo praticamente permette di muoversi e in questo caso andiamo in fondo e cadiamo quindi se guardiamo in alto dovremmo vedere il nostro cubo quindi siamo caduti adesso qui purtroppo c'è un po' di lag quindi non si vede chiaramente ma l'effetto è quello desiderato quindi direi che per quello che ci interessa abbiamo finito la nostra applicazione quindi per il nostro per il nostro corso sarà sufficiente che voi facciate qualcosa di questo tipo cioè la possibilità di verificare che riuscite a camminare premendo quel click nel vostro android è tutto buona serata